Ciao, sono Andrea DeBiasi e benvenuto a un altro tutorial della DeBiasi Automatismi. Oggi parleremo delle radioriceventi. Cos'è una radioricevente? Una radioricevente è un dispositivo che sostanzialmente riceve un segnale dal telecomando. La radioricevente può essere posizionata di conseguenza dentro un cancello o dentro qualsiasi dispositivo che vogliamo controllare col telecomando. Di conseguenza, qualsiasi cancello di qualsiasi marca può essere radiocontrollato con il telecomando che vi consegniamo. È necessario però inserire nella scheda del cancello che vogliamo controllare la radioricevente in questione. L'unica avvertenza è che ogni azienda lavora con le proprie frequenze ed è quindi necessario che il telecomando e la radioricevente lavorino sulla stessa frequenza. Vediamo ora per i telecomandi della Sommer come funziona la programmazione della radio. Per programmare la radioricevente dobbiamo agire su questo piccolo pulsante laterale nero. Lo premiamo, si accende una luce LED verde e dopo schiacciamo il bottone del telecomando che intendiamo programmare. A questo punto il telecomando e la radioricevente sono sincronizzati e premendo il pulsante selezionato si aprirà la nostra automazione. Per programmare il telecomando di ultima generazione la procedura è analoga. Dobbiamo naturalmente utilizzare la radioricevente compatibile come spiegato precedentemente. Quindi premiamo il bottone nero laterale, si accende la luce LED verde e premiamo il bottone del telecomando che intendiamo far funzionare. Premendo quindi il pulsante selezionato si aprirà la nostra automazione. Vi ricordiamo inoltre che il telecomando di generazione precedente con frequenza 434 ha la rispettiva radioricevente che riceve il canale 434 e il telecomando di generazione successiva con frequenza 868 ha la rispettiva radioricevente che riceve il canale 868. Entrambi i codici sono scritti dietro le radioriceventi. La radioricevente in questione va alimentata attraverso le prime due entrate a 12 o 24 volt e le altre quattro entrate ci offrono due contatti puliti. Vi ringrazio per aver seguito il nostro tutorial e vi invito a rimanere connessi al nostro canale YouTube DBS Automatismi Communication.